Musica 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 Che è fornita dei dati oggettivi, delle ricerche noi abbiamo un reddito più basso in Umbria rispetto alle Marche, rispetto alla Toscana rispetto all'Emilia Romagna, rispetto allo stesso Lazio, regione Lazio di 7-8 punti percentuali. Le ragioni non sono soltanto legate ai redditi più bassi che ci sono nella nostra regione ma prevalentemente la ragione fondamentale è legata alla tipologia del lavoro tu lo dicevi è un lavoro a bassa manualità e quindi con trattamenti economici molto ridotti rispetto a quello delle altre regioni. Da noi i fattori di engineering, i fattori di amministrazione, i fattori di gestione non sono parte fondamentale del sistema industriale produttivo Umbro e quindi chiaramente questo allontana dai luoghi di lavoro diciamo le personalità più formate e quindi quelle con maggiore disponibilità con maggiore diciamo costo per le aziende. Questo è il primo elemento. Seconda questione considerazione l'occupazione femminile nella nostra regione è un'occupazione molto più bassa rispetto a quella delle altre regioni anche questo perché? Perché in prevalenza l'occupazione femminile è relegata ad alcuni settori specifici amministrazione pubblica il commercio alcuni settori dell'agroalimentare ci sono alcune realtà legate all'attività di trasformazione ma nel cuore del sistema industriale Umbro l'occupazione femminile è bassissima Terzo elemento nella regione dell'Umbria il lavoro precario è una forma contrattuale molto diffusa che non riguarda solo il privato perché vorrei insomma che non ci fosse questo equivoco cioè non è solo un problema delle aziende private cioè anche nel pubblico e ci sono forme di precariato nel pubblico secondo me più gravi anche rispetto a quelle presenti nel privato poi nel privato in alcuni settori mi viene in testa tutta l'area del commercio dove i contratti se sono part time contratti semestrali contratti a chiamata contratti ripartiti cioè ci sono una tipologia contrattuale che chiaramente non fa altro che esasperare il rapporto precario quindi questi elementi danno in maniera molto sintetica però danno un'immagine della nostra regione diciamo in difficoltà non è un caso che molte ricerche parlano di una meridionalizzazione dell'Umbria per quale motivo perché noi corriamo il rischio di perdere sempre più quel legame che c'era con le regioni più evolute del sistema italiano e invece siamo costretti a misurarci con fenomeni che in altri tempi non erano presenti ora intorno alle vicende ternane del lavoro c'è la questione importante dell'AST ma io non dimenticherei anche tutte le vicende della chimica dell'edilizia che sono presenti con tutto il loro con la loro intensità e la loro gravità nella chimica noi abbiamo perso facendo un calcolo veloce tra gli 800 e i 1000 posti di lavoro con i processi di riorganizzazione che sono avvenuti e la chimica era la seconda campo del sistema industriale del nostro territorio della nostra provincia così l'edilizia stavo vedendo con il segretario della filea qualche giorno fa i dati da 6.000 iscritti alla cassa edile oggi siamo a 2.000 c'è stata una moria non ufficializzata non registrata ma che dà l'indice il segno della crisi che ha investito questo settore la vicenda AST è chiaramente quella mediaticamente più esposta più visibile quella che dà maggiore intensità alla crisi nel nostro territorio perché l'AST ha rappresentato uno dei processi di industrializzazione più importanti del fine ottocento e di tutto il novecento italiano noi abbiamo una eredità che è quella di una delle poche industrie italiane in grado di produrre acciai speciali e fucinati Terni è strettamente legata alle vicende della Terni io questi giorni ho letto tantissime cose rispetto al rapporto che c'è tra fabbrica e territorio e territorio e fabbrica cioè Terni è una città industriale perché c'è la Terni perché la Terni ne ha condizionato i tempi l'ambiente l'organizzazione della vita le relazioni è chiaro che una manomissione pesante all'interno del sistema Ternano dello stabilimento AST determinerebbe un cambiamento epocale io penso e con questo concludo penso che noi abbiamo un obbligo prima morale e poi politico cioè quello di difendere questa comunità e la dobbiamo difendere nell'interesse generale e negli interessi delle tante persone che intorno alle vicende del sistema industriale di Ternano hanno trovato la loro ragione di esistere e hanno trovato anche la loro capacità di esercitare in pieno il diritto di cittadinanza e noi credo che questo questo elemento non dovremmo mai trascurarlo non dovremmo mai come dire abbandonarlo perché dovrebbe essere elemento catalizzante attraente la vita della nostra città del nostro territorio attraente un bel